Questo video riguarda i migliori tre tastiere senza fili. Il vincitore della qualità è Logitech MK270. Il ricevitore USB offre una connessione wireless affidabile fino a 10M, senza interruzioni e ritardi, portalo con te ogni volta che usi il tuo computer. MK270 combina una digitazione familiare. La libertà del wireless e la lunga durata della batteria non stupisce che questo sia la combo più venduta al mondo. La tastiera wireless full size è dotata di un design resistente al rovesciamento di liquidi, tasti durevoli e robusti piedini di inclinazione con altezza regolabile. La durata delle batterie è di 36 mesi per la tastiera e di 12 mesi per il mouse, insieme agli interruttori on-off ti permetteranno di utilizzare MK270 per mesi senza dover cambiare le batterie. Questa combo dispone di 8 tasti multimediali a scelta rapida per l'accesso immediato a internet, e-mail, play-pause e volume, in modo da poter gestire con facilità i tuoi siti preferiti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Trastimo Set tastiera. Il kit Trastimo comprende una tastiera wireless integrale con layout QWERTY in italiano e tastierino numerico e un mouse wireless. Il set è compatibile con Windows, MacGES e Chrome OS, tutto ciò che ti occorre per lavorare su una scrivania ordinata e priva di cavi. La tastiera e il mouse usano entrambi lo stesso ricevitore USB, per la massima comodità. Una corretta idratazione è fondamentale per lavorare. La tastiera Trastimo è resistente ai liquidi, quindi non dovrai preoccuparti per qualche goccia sulla tastiera. I tasti e i pulsanti silenziosi della tastiera e del mouse ti aiutano a non disturbare gli altri quando lavori. Un'esperienza senza interruzioni per l'utente e per le persone intorno. Con i 13 tasti Funzione e Multimediali, sarà facilissimo avviare la calcolatrice o regolare il volume degli altoparlanti. Il vincitore del premio è il Trastimo tastiera. La tastiera wireless integrale Trastimo ha un layout QWERTY e tastierino numerico. Il set è compatibile con PC e laptop Windows, MacGES e Chrome OS. Liberati dai cavi. Questa tastiera ha una portata wireless di 10 metri mettila dove ti è più comodo per lavorare. Lavora sodo, ma bevi abbondantemente. La tastiera Trastimo resiste ai liquidi, quindi non dovrai preoccuparti se un por di liquido si rovescia sulla tastiera. Versati una bella tazza di caffè e vai avanti. I tasti silenziosi di questa tastiera ti permettono di non disturbare nessuno con il tuo lavoro. Anche i tasti multimediali e di Office sono silenziosi. La tastiera Trastimo viene fornita in un imballo sostenibile, fatto principalmente in materiale riciclato. È riciclabile al 100% e riduce l'impatto ambientale. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.